La grande Lecco mette tutti d'accordo, approvata da tutte le forze in Consiglio Comunale, la mozione proposta d'appello per Lecco per gettare le basi del processo di aggregazione al capoluogo dei comuni confinanti. Un percorso che inizierà con un confronto fra amministratori del territorio per la condivisione di servizi alla cittadinanza. Sicuramente ci sono delle questioni di carattere identitario che sarebbe interessante capire se e come superare senza eliminare una differenza che rappresenta comunque una ricchezza. Non mi piace il nome grande Lecco perché dà l'impressione di chi vuole annetterci chissà che cosa. Però l'idea è che una città, un capoluogo di più deve avere 100-120 mila abitanti per attrarre interesse, cosa che noi riusciamo a fare perché siamo piccoli. Se noi riusciamo a creare un sistema per cui magari invece che insultarsi i comuni limitrofi riescono a mettersi in rete e quindi noi in parte risolviamo i loro problemi e loro in parte risolvono i nostri a guadagnare la cittadinanza. E sì a un confronto con i comuni limitrofi, con i comuni confinanti, il rispetto di questi che chiamiamo campanilismi ma come tutti gli ismi ha una connotazione negativa che non mi piace, quindi le chiamerei sensibilità dei cittadini vari. Impegni di confronto con tutte le amministrazioni confinanti per concretizzare percorsi utili a decentramento dei servizi, delocalizzazione di poli erogativi, collaborazione. Su queste cose certamente sono tutte condivisibili. Ha senso parlare di un impegno per allargare un po' anche il nostro territorio, un coinvolgimento delle realtà vicine, se siamo capaci di costruire un reale sistema? Io credo che sia un'idea di buon senso cercare di aumentare il perimetro nella nostra città. Sicuramente l'ECO può ambire, come è già stato detto, a un'espansione territoriale. C'è un tema e quello di oggi è evidente che non esiste banalmente che il capoluogo non gestisca nessuno dei suoi accessi. Da oggi commenta in una nota la Civica, a parte un nuovo capitolo, della LECO capoluogo di maggiore coesione e reciprocità con i comuni limitrofi. Chiediamo all'amministrazione ora di individuare una figura che possa avere una delega per imprimere operatività ai propositi contenuti nella mozione.